Ciao ragazzi, qui è MatteSquiz e questa è la quarta parte, il quarto episodio del Let's Play in Minecraft Allora, l'ultima volta eravamo entrato in questa caverna di merda e ho sentito i rumori di sti stronzi dei mostri albanesi Allora, andiamo su, come avevo detto, a prenderci un po' di roba, se troviamo la via, porco cane E... boh, niente, allora, torniamo su, ci prendiamo la roba, la casetta stupida Cioè, ci prendiamo qualcosa da mangiare, se ce n'è Cioè, non prendo niente Allora, torniamo giù, cioè Sì, torniamo giù Scusate ragazzi, sono un po' inquilionito oggi, ma fanno lo stesso E... torniamo giù E... ammazziamo i bastardi Allora ragazzi, come sentite? Dalla mia voce ho comprato il microfono nuovo Proprio per voi, per fare i video migliori E allora, andiamo Allora, allora Aumento un po' il volume Perché non si sentiva niente, se no Ok, andiamo Qua non c'è proprio niente Non c'è niente Mi sta rompendo Di... qualcosa da ammazzare Cioè... Devo ammazzare un po' di gente Oh, bello ferro Allora, facciamo il warbench e boh facciamo in ferro e e facciamo un picchietto in ferro sei ferro buona in pietra no Lucio no 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 guarda il culo dai va bene va bene otto va bene dentro speriamo di trovare il diamante però ragazzi altro ferro buono buono poi mi farò anche l'armatura dai in ferro così sono più pro però non è che vi faccio un po' di torcia ma se no vado proprio allo sbaraglio let's go in the darkness basta 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 ragazzi sto andando in muro scusate ma falso su creeper 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 stavi lontano creeper di merda io odio creeper creeper scopo lontano da me bastardo aiuto aiuto stronzo mi vecchi bastardo si oddio 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 aiuto 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 non c'è niente si sono matti squiz io spacco tutti si sono ritornato al punto di inizio che gran coglione vabbè oh creeper vieni qua scoppia bastardo fa il culo non scoppia creeper ah eccolo ah ah creeper hailer ah è anche tornato il giorno dai usciamo da sta grotta io esco dalla grotta e mi faccio oddio creeper creeper no sì creeper scoppia ah 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 che nabbi creeper ho fatto il giro insomma vabbè dai mettiamo giù la roba e concludiamo il video adesso metto giù la roba che non mi serve ma questo si mi serve metto giù la roba e vabbò per questo è tutto ragazzi alla prossima da amati squiz iscrivetevi e commentate bella raga